Ultimissimo all'aggancio del blocchetto di partenza Marco Orsi, poi un tempo di reazione a 0.58 sulla stessa linea di Jesse Puzza, adesso nella parte nuotata però bisogna aprire i motori, bene Lorenzo Zazzeri, attenzione parte bassa della vasca seconda, Corsia dalla linea che delimita laggiù il quadrato d'acqua e poi alla centro arriva Zabo, ma attenzione all'Italia perché è argento per Zazzeri che conferma di essere in condizione strepitosa. Si va a mettere lì in mezzo a una bagara pazzesca e conquista la medaglia d'argento migliorando ulteriormente il proprio personale portandolo a 20.84, 20.72 Zabo per vincere, finisce il regno di Vladimir Morozov nonostante il terzo posto ex equo con Juracek. Orsi fa 21.32 e è l'ultimo dell'otto.